Hai una visione in pratica quella che hanno i giocatori, no? No, ne parlavamo anche ieri con Stefano riguardo anche al discorso del 3D, no? Che comunque la telecamera è più bassa e riesce a percepire cose diverse Come l'ha presa? Non ho mica capito Eh, dobbiamo rivedere perché credo che lui l'abbia giocata col braccio dietro la schiena Sì, sì Oh, beh, ma hai visto cosa ha fatto? Guarda, anzi, che Nadal nel momento che... Stava per ridere, sì Stava, sta ridendo Questa è da copertina